Guarda lì che tamarro, ciao ragazzi Shai è un personaggio che sto iniziando a usare ultimamente non lo conosco ancora bene quindi sbaglierò molte cose non siete cattivi però è un personaggio che mi piace mi piace come si muove, mi piace il suo stile di combattimento sto imparando anche banalmente a essere aggressivo ottimizzare le combo Shai Ogariu, ok sta un po' laggando pensavo fosse alto no ok non l'ha punito sto laggando, è proprio una che sto laggando perché altro ma no quanto lagga no no Ok Perché l'ho presa tutta? Bait Ha funzionato Non lagare Non lagare Cristo Re Ok giocabile Ingiocabile Ma porco il calzo BAM Ah era giocabile Non l'ho capito Pensavo che il muro fosse più lontano Ottimo counter Contrati Spero . . . . . Ahhhh Bravo Non so se ti conveniva a fare il muro quella Ehi Che dei danni Ma trovo Ottio Nice Dovrei cambiare il controller Perché praticamente Che succede? Io gioco principalmente col portatile Un altro video Gioco principalmente col portatile Sul portatile del controller dell'Xbox One Che ha dei tasti diversissimi da questo E mi trovo veramente male Eh non ho continuato la garantita quella era alta ah madonna quanto l'ha messo questa niente l'ha messo proprio ma quale cazzo mi ha preso eh immaginavo ma perchè oggi non so fare il pensavo di essere l'acustico buritata non è sciopato nice e va bene ragazzi fatemi sapere se volete altri match di shahin e noi ci vediamo al prossimo video ehi ciao ti consiglio di guardare altri video fallo ciao 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 ciao